Oggi, oltre a questo gigantesco bambinello, che è uscito questa settimana insieme ad altre cosucce interessanti, abbiamo altra roba arrivata dagli uffici stampa Panini, dall'ufficio stampa della BAU. La settimana prossima non c'è niente, è caricato sul sito Panini, quindi nel caso non dovessimo vederci, mi troverete al Salone del Libro, giovedì e venerdì. Come dice il Salone del Libro? No, il Salone del Libro è una figata, perché è vero che non ci sono ospiti, però è molto interessante perché ci sono vari editori, sicuramente c'è la Salone del Libro, sicuramente c'è la Panini, probabilmente, anzi, sicuramente c'è anche la Coconino, spero che ci sia la BD, perché ho visto che esce Something Ischilia Childress 7 e volevo andarla a pigliare, in più è una fiera che completamente libera da tutte le minchiate che ci sono, tipo a Romics, al Bologna Nerd, Modena Nerd e cazzi vari, quindi cosplayer non ci sono, non ci sono tutte le pacottiglie, le minchiate, le statuine, tutte quelle carte lì c'è solo della gran carta. Io ve la consiglio interessante, se non altro potete andare a saldo per sapere dei gran birra e poi, su, fare un po' così, eh? Andiamo a vedere, dai! Bene, quindi partiamo subito, come al solito, con il migliore dell'omniverso, e cioè Batman, Batman 93, Batman 93, santa madonna, Batman 93, che rivede Teeny Hours agli script, e quindi, e quindi è una tragedia, ragazzi, cioè ma come cazzo fai a partire con Batman disperato, sui tetti di Gotham, senza maschera, che piange, che fa tutte ste robe, cioè, ma io non so, cioè ma li leggi i fumetti prima di scriverli, ma vaffanculo, andiamo avanti. Wonder Woman di Tom King, invece, ci piace, ci piace, spillato di 32, 32 pagine, 3 euro, questo è il secondo spillato della serie di Wonder Woman di Tom King, con le matite di Daniel Samper, ed è una grossa figata. Allora, sempre con molta cautela, perché siamo ancora, appunto, agli inizi, però questa Wonder Woman sicuramente ha qualcosa da dire, con un sacco di spunti interessati, personaggi, come abbiamo detto precedentemente, ripescati da passato, un intrigo, soprattutto, di quelli che piacciono a Tom King, su basi crime, diciamo, quindi, espionistico, roba del genere, quindi, diciamo che è il pane suo. Poi dopo abbiamo Batman e Robin, il primo spillatino, con la cover, ovviamente, regular, che ho pescato nel blind pack, carina, perché è a splash, diciamo, di Williamson, con i disegni di Simone Di Meo, Simone Di Meo che è bravo, è un ottimo disegnatore, però ha questi tratti un po' digitali, non so come descriverli, con anche queste colorazioni un po' fredde, un po' sempre sul digital, che piacciono, possono piacere o non piacere, insomma, comunque è un numero abbastanza interessante, senza troppe pretese, che rivede Damien e suo padre di nuovo insieme nella lotta al crimine contro Gotham, dopo le varie vicissitudini con Lazarus situation. Poi passiamo ai cartonatozzi, abbiamo Soul Plumber, cartonato di 176, 152 pagine, 20 euro, continui capitoli dal 1 al 6, questa è una specie di horror, infatti, della collana horror, diciamo, ah, di Cardellini, ciao Lori. Eddard Wiggins è un ex studente di seminario intenzionato a salvare l'anima degli abitanti di India e Napoli, se dopo aver partecipato in un incontro ottenuto in un hotel da un misterioso gruppo chiamato Soul Plumbers, Edgar scopre il segreto per liberare le anime del gioco di Satana, ok, tuttavia rubato i progetti per creazione del macchinario usato per i Soul Plumber, Edgar accidentalmente un pericoloso alieno interdimensionale, la bizzarra psichedelica e biblica storia firmata da Marco Sparks, vabbè, insomma, io ho visto che è una roba horror, le robe horror di solito mi piacciono, quindi disegni interessanti, vedremo, vedremo. Ecco, qui invece abbiamo una figatuzza grossa, o almeno potenzialmente dovrebbe essere una figata, l'enigmista anno 1, DC Black Label, cartonaccio 26, 216 pagine, 27 euro, continui capitoli dall'1 al 6, quindi il ciclo completo, qui abbiamo Paul Dano, che è l'attore, quello che ha interpretato l'enigmista nel film The Batman, e disegni di Steven Subic, disegni molto particolari, che secondo me si adattano perfettamente un po' al mood del personaggio sicuramente, e anche spero della storia, perché non ho corretto, quindi vedremo. Prima di dare il filo da torgere a Batman, di Robert Pattinson, ma come ha fatto Edward Neshton a scoprire i segreti più oscuri della città e a sfruttarli per colpirle al cuore, grazie alle inquietanti matite di Steven Subic, entrerete in affolimenti, ne ho preso, vabbè, questa descrizione, non lo so, questo qui mi ispira parecchio, vedremo. Mentre qui invece abbiamo quello che è sicuramente una grossa figata, Notte Oscura, una vera storia di Batman, cartonato deluxe, 18 e 3, 27 e 7, 128 pagine, 20 euro, di Paul Dini, con i disegni di Edoardo Risso. E qui Paul Dini praticamente va a scrivere una storia che è una sorta di biografia nella quale racconta fatti della sua vita, per esempio il giorno in cui venne aggredito, brutalmente picchiato e rischiò addirittura di perdere la vita, ma nei momenti più bui a fianco delle vittime c'è sempre Batman. Praticamente lui va a inventare quello che sarà Batman di Animated Adventure, questa qui è una storia che è veramente molto molto toccante e al tempo stesso naturalmente anche molto molto importante per tutto il Batverso. Bravo, bello. Bene, poi passiamo ai White Cats di Alamore, cartonato deluxe, 26 e 3, 192 pagine, 38 euro, continui i capitoli dal 21 al 34, proprio il 50, di Alamore, Travis Charest, Kevin McGuire, Ryan Benjamin, eccetera, eccetera. E Wildcats, i Wildcats che io conosco veramente poco, tra l'altro devo ancora finire l'Absolute quello di Jim Lee, nel 1995 Alamore e Travis Charest presero in mani Wildcats, Amp, Spartan, Mulvudu, Void, eccetera, eccetera, sono ritenuti morti dai loro amici che decidono di formare un nuovo team. In realtà i Wildcats originali sono riusciti a sfuggire alla morte e ad arrivare che era, ma dietro a un'immagine paradisiaca il loro pianeta natale nasconde torbi di segreti, bla bla. Comunque sicuramente ci sarà la mano un po' malsana, un po' particolarissima di Alamore, quindi potenzialmente potrebbe essere molto interessante, vedremo un po'. Poi abbiamo Superman, figlio di Kal-El, volume 1, La Verità, cartonato, 76, 152 pagine, 20 euro, ottiene Solo of Kal-El dal 1 al 6, di Tom Taylor, John Thames e Daniele di Nicuolo. Inizio l'avventura di John Kenney e i panni di Superman. Kal-El ha lasciato la Terra per una missione da cui potrebbe non fare il ritorno e tocca a suo figlio raccogliere il mantello, quindi questa qui è una storia che si svolge, diciamo, quando è andato su un mondo guerra, credo, qualche esperto di Superman, io non l'ho letta quella saga lì, però immagino di sì. Con una realtà così presente, il nuovo woman's child dovrà scegliere quale approccio utilizzare contro le ingiustizie della Terra, con conseguenze potenzialmente disastrose. Pfff, sì, già a me Superman, quello originale, mi sta un po' sulle palle, figurati il figlio, disegni tra l'altro orrendi, veramente brutti, mi ricordano un po' il pessimo John Romita, ma non vorrei offendere. E poi abbiamo il pianeta delle semie, pianeta delle semie, la caduta dell'uomo, volume 1, cartone 126, 18 euro, volume unico, quindi potrebbe essere una storia interessante, dato che non ci dovrebbero essere particolari conoscenze pregresse da avere, sono passati anni da quando il virus delle semie si è discusso per la prima volta, ha devastato la Terra, le semie prosperano, l'unità crolla, mentre gli scienziati cercano una cura, un gruppo di fanatici umani, idea, la propria personale soluzione, sterminare tutte le scimmie, vabbè, c'è proprio tranquillo, vai, ok? La pacificatrice Giuliana Tabon è una delle poche a opporsi, ma la crisi è in ascesa e presto le scimmie capiranno di cose realmente capaci e la crudella umanità, vabbè, questo qui magari è una di quelle storie che nasconde un significato più sociologico, diciamo, una di quelle robe, vabbè, carino. Poi abbiamo questo volumazzo, Monster Official Artbook cartonato 21x29,7, quindi una 4 preciso, 35 euro di Dario Moccia, qua c'è una cartina che, allora, io pensavo che questo fosse uno, un Monsterbook, diciamo tipo quello di, non so se avete presente, Dungeons & Dragons, il libro, il manuale dei mostri, dove c'erano tutti i mostri descritti con l'idà di vita, i punti di forza, i punti deboli, eccetera, eccetera, no? E invece mi ritrovo, cioè io non avevo idea, questo qui è una roba, un gioco di carte, credo, inventato a quanto pare da sto Moccia, che mi hanno dovuto spiegare chi è. Comunque, al di là di quello, sì, mi aspettavo una roba completamente diversa, però ci sta, cioè alla fine è bello da vedere, bei disegni, situazioni interessanti, non credo che giocherò mai a robe del genere, perché l'ultimo gioco di carte che ho preso era briscola, e ci gioco l'ultimo dell'anno, però, vabbè, insomma, carino, carino, dai. Poi qui abbiamo invece Harley Quinn, Black White più Redder, cartonato, 1626, 282 pagine, 29 euro, di Cip Zaschi, Luana Vecchio, Gay Simone e Bruno Redondo, cioè proprio un poker di nome piuttosto interessante. Dopo il successo di Harley Quinn arriva una nuova antologia dedicata all'anti-eroina più scatenata di Gotham. Questi tratti compiono un viaggio nella fortezza della solitudine a ricordare il suo passato di ginnasta e divertirsi insieme alle Gotham City Sirens. Harley Quinnzel si prepara a travolgere i piani di chiunque incontri nel suo cammino. Questo è una roba molto carina, al di là della scelta cromatica che non mi vede particolarmente d'accordo, ma con un altro discorso, è una roba carina e potenzialmente fuori continuity, non credo che sia niente in continuity, con i one shot che potrebbero rivelarsi delle piccole chicche, vedremo un po', vedremo un po'. Naturalmente è tutto curato dalle le pizzi, ciao le pizzi. E qui abbiamo un'altra figata grossa, Batman Redwood sotto il cappuccio, DC Deluxe, cartonato, 17, no, 18.3 per 27.7, 544 pagine, quindi questo qui è un bel mallopone, 50 euro, di Doug Monk, Jeff Loeb, Judith Winick e ragazzi questo qui è molto, oltre ad essere una grossa figa di disegni fantastici, secondo me a me questo stile piace un botto, qui abbiamo una storia molto importante perché abbiamo il ritorno di Jason Todd a Gotham City. A Gotham City qualcuno si sta opponendo dal crimine organizzato, ma i suoi metodi sono ben diversi da quelli di Batman, infatti qua ammazza di brutto. Il nuovo misterioso vigilante uccide appunto brutalmente i meme della malavita agli ordini di maschera nera ed è persino pronto a scagliarsi contro Joker per perpetrare il suo ideale distorto di giustizia. Chiaramente Joker l'ha ammazzato, quindi c'è anche ammazzo. Tra l'altro questo qui c'è anche un cartone animato, un lungometraggio animato, insomma chiamate come cazzo volete, che è molto carino, che racconta parte di questa storia qui. Ad ogni modo abbiamo di fronte una pietra miliare della storia di Batman, questo qui è molto importante, cioè se uno, neanche tanti completisti, questo proprio è un volume che per chi ama Batman secondo me va letto. ecco. E poi qua abbiamo la bombazza della settimana, bombazzissima Justice League di Jeff Loueb, primo omnibus, 18.3, 27.7, 1200 pagine, 100 eurini che adesso andiamo a sblisterare. eccolo qui, contiene Justice League dal 0 al 23, Justice League of America che era insieme nelle backup degli spillati della Lion all'epoca, i Free Comic Book Day del 2011, Trinity of Sin, Justice League Dark, addirittura hanno messo Bravi, Constantine e varie altre cose. qui, naturalmente, con i disegni di Jim Lee, il mio amore assoluto, non tutto eh, però molti, molti capitoli c'è, Jim Lee, un nuovo mondo sorge dopo gli eventi di Flashpoint, perché qui abbiamo una storia in pieno New 52, a me il New 52 sono uno dei pochi, credo, a cui è piaciuto moltissimo, chiaramente non tutto però, per quanto riguarda Justice League, quando lo vado a Batman, a me questo, il New 52 è piaciuto moltissimo ed è un mondo in cui incombono minacce enormi, c'è di nuovo bisogno della Justice League, una congrega dei criminali che si fa chiamare Sicle Society, trama nell'ombra contro i nostri eroi, la misteriosa Pandora, la nascita della Justice League America, bla bla bla, qua ci sono degli archi narrativi molto belli, tra cui sicuramente la Dark Side War, del quale è uscito il volume singolo qualche mese fa, e probabilmente lo infileranno dentro, il Trono di Atlantide, anche quello è molto bello, la Trinity Wars, anche quella lì è una grossa figata, e varie altre cose, secondo me questo qui è bello, io godo, bello. E per finire vi faccio vedere magari un pochino più nel dettaglio questa cosetta che mi ha mandato l'ufficio stampa della BAU, Le Guerre di Lucas, che è abbastanza distante dalla mia confortunità, a me Star Wars piace, mi piacciono la trilogia quella classica diciamo degli anni 80 credo, inizia bene, mi sono piaciute anche quelle dopo, non sono un fanatico, non mi vesto diciamo da Ewok al Luca Comics, comunque questo qui è un volume che racconta come è riuscito Lucas, George Lucas, a realizzare il primo film di Star Wars, è riuscito perché appunto come spiega il volume ha dovuto superare varie peripezie, a livello di soldi, a livello di convincimento delle case cinematografiche, ha dovuto riscrivere 300 volte le sceneggiature perché all'epoca era abbastanza un cagnaccio a scrivere i dialoghi, lui ha sempre avuto quest'occhio per la regia, per gli effetti speciali, tutte queste cose qui, e qua viene raccontato tutto con i vari incontri, fra l'altro con Spielberg, Francis Ford Coppola e vari altri super vip, insomma questo qui è molto carino, molto carino, pensavo fosse interessante, sì, ma magari più per quelli che sono veramente appassionati alla saga, invece è veramente bello, veramente bello